Romestroni, Italia, Romani 20 kg bilanciere 20 kg 10 kg 5 kg questo lock jaw l'orologio niente 2 kg 2 kg 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg 5 kg 15 kg Grazie a tutti. 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 Vai qui a sinistra. Dai, dai. Grazie. Grazie a tutti. Respira e vai, respira e vai. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.